L'attuale presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden ha compiuto di recente una nuova simpatica gaff. In particolare il presidente avrebbe chiesto Jackie se qui dov'è Jackie. L'avrebbe detto lui stesso durante un'intervento a Washington, città capitale degli Stati Uniti d'America. Andate a chiedere dove fosse la deputata repubblicana dell'Indiano, ossia Jackie Walorsky. Ricordo che però la donna in questione non poteva esserci perché è deceduta purtroppo e morta in seguito ad un incidente stradale nell'agosto del 2022. Una grande gaff dunque per questo personaggio che fa parte della politica statunitense o per meglio dire americana, che ovviamente può piacere o non piacere ma comunque si è reso divertente o comunque si è coperto di piccolo, secondo me andata a compiere una gaff che poteva secondo me, ripeto, secondo me, sotto il secondo me, andare a evitare. Ma come dire, c'è stata, non è passata inosservata, c'è stato un sorriso di circostanza che è partito dai più, che erano presenti dopo. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video oggi, utenti di YouTube, iscrivetevi, commentate. Un caro saluto a voi, d'Aleandro, narrato in Italia.